Il Ministro Alfano ovviamente ha parlato di buoni propositi per questo semestre europeo, ha risposto a tutte le domande che gli avevamo posto nell'audizione di Milano. Sta di fatto che queste finora rimangono soltanto buoni propositi sulla carta e sta di fatto anche che è proprio di questi giorni la notizia che all'interno del Ministero c'è un funzionario chiamato Francesco Sperti che ha forti legami con i fratelli Righi che avvantaggiavano un clan della Camorra. Bene, il Ministro dovrà rispondere di questo incarico dato a Sperti che controllava tutto il servizio informatico del Ministero dell'Interno e quindi fa sorridere che da una parte ci siano i proclami per lottare contro la criminalità organizzata anche in ambito sovranazionale, anche in vista del semestre europeo e poi i colletti bianchi legati alla Camorra ce li hanno in casa.